la Range Rover Evoque è uno di quei modelli di auto che da soli sono in grado di fare la differenza per quanto riguarda un marchio automobilistico nel caso specifico parliamo di Land Rover perché è stata in grado di creare una moda un trend che poi i concorrenti hanno seguito in una categoria di mercato che è quella dei SUV compatti e fino al suo lancio ha detto qualcosa di nuovo a livello stilistico con linee coraggiose ma anche per il mix di proporzioni inedito perché parliamo di una macchina lunga meno di 4 metri e 40 quindi più corta di auto che sono percepite psicologicamente come più compatte ad esempio una Mercedes classe A abbinato a una larghezza invece che paragonabile agli ingombri di una supercar circa un metro e novanta poi c'è anche il discorso del fascino legato al marchio Land Rover che affonda le radici ovviamente nell'idea di libertà di movimento delle capacità fuoristadistiche di questi veicoli che anche qui irrazionalmente fanno parte della scelta quando si tratta di acquistare un'auto e la protagonista di questo come configurarla che è la seconda generazione del modello evolve sia il design l'estetica aggiungendo da un altro punto di vista invece tecnologia come nel caso dello specchietto retrovisore centrale che può essere sostituito da una telecamera e poi per rimanere al passo coi tempi c'è stata anche un'operazione di elettrificazione dei motori iniziamo allora a configurare la nuova evoc sul sito Land Rover vedete questa è la gamma attuale con l'ultima arrivata in ordine cronologico la defender e partiamo nella scelta con le versioni disponibili quindi evoc diciamo base allestimento art dynamic o meglio versione art dynamic e first edition seleziono la evoc e è il momento di fare una panoramica invece sulle motorizzazioni partiamo da un turbodiesel due automotrici trazione interiore da 150 cavalli che è disponibile anche nella variante myd hybrid con trazione integrale e cambio automatico che viene anche declinata con più potenza 180 cavalli oppure sempre appartenente alla famiglia chiamata ingenium c'è anche questa versione più potente biturbo 4 cilindri 2000 turbodiesel myd hybrid integrale automatica la tecnologia di elettrificazione leggera è anche disponibile sui motori a benzina sempre 2000 di cilindrata 4 cilindri turbo con 200 cavalli oppure 250 e 300 cavalli e poi c'è l'ultima versione entrata in listino da poco che è quella per molti più interessante soprattutto per chi abita nelle grandi città ovvero la versione ibrida con un 3 cilindri plug-in 1500 con 309 cavalli di potenza combinata mettendo insieme l'apporto anche del motore elettrico che vedete qui è montato sull'asse posteriore selezioniamo proprio questa versione più moderna e vedete prima parlavo di versioni appunto perché qua invece l'EVOC è suddivisa in quattro allestimenti EVOC, S, SE ed HSE scorrendo è anche comodo come visualizzazione in verticale si vede un po la differenza colpo d'occhio tra le varie versioni mi piacciono molto questi scusate spesso uso la parola versione come sinonimo di allestimento ma insomma ci capiamo questi cerchi dicevo da 18 pollici con questa finitura satinata grigia 18 pollici anche per l'allestimento successivo che vedete è molto simile rispetto al primo direi di scegliere proprio questo secondo in particolare perché mi immedesimo in un cliente tipo soprattutto per questo aspetto per poter avere già gli interni in pelle compresi nella dotazione anche se io sono un fan degli interni in tessuto e probabilmente invece la sceglierei proprio così anche perché mi piacciono molto quei cerchi ma vedete compreso nel prezzo che vedete qua in alto è di circa 4.000 euro superiore su questo allestimento S c'è anche un infotainment più completo a partire dalla dotazione di serie quindi selezioniamo la s e iniziamo con la scelta degli optional degli accessori a partire da i colori disponibili che mi aspettavo da un marchio premium fossero di più vedete direi che anche per il prezzo il sovrapprezzo starei su un metallizzato intorno ai 1.000 euro facciamo questo rosso che da un po' più di colore letteralmente alla carrozzeria opzione vetri chiari e oscurati ormai se avete seguito anche altre puntate sapete che non sono un ammiratore dei vetri scuri mentre adoro i fari a matrice di led che purtroppo in questo caso costano 2.000 euro però insomma rinuncio ad altri optional stiamo comunque parlando di un modello premium quindi che va anche equipaggiato come si deve quindi abbiamo aggiunto i matrix led che vi ricordo non è solo una questione estetica ma migliorano davvero la sicurezza di guida e la rilassatezza di notte i cerchi che sono di serie sono questi da 18 pollici peccato non avere l'opzione di poter mettere anche quelli dell'allestimento precedente con più razze sottili ma questo è una questione di gusti quindi andiamo a vedere l'ultimo anzi il penultimo pacchetto qua a sinistra per il tetto direi che è d'obbligo per le bocca avere il tetto nero a contrasto è un marchio di fabbrica ma ci sono altre opzioni vedete comprese quelle dei tetti apribili e panoramici e invece questo pacchetto estetico sostanzialmente va ad aggiungere guardate le due differenze tra queste immagini degli elementi in nero lucido 1000 euro però secondo me ecco vedete l'effetto estetico rende molto sull'Evoque che punta decisamente sul design quindi su certi su certi aspetti e bisogna spendere i sedili in pelle come abbiamo detto prima sono di serie quindi non aggiungerei ulteriori varianti meno che non siate proprio amanti di un rivestimento di qualità superiore e per come è strutturata o l'abitacolo e deriva dal design che è stato dato alla carrozzeria siccome è un po claustrofrobica diciamo per soprattutto nella zona posteriore ci sta lasciare l'imperiale del tetto la zona alta in colore chiaro per dare più più aria più sensazione di erosità così come effettivamente se volete ancora migliorare potete aggiungere l'opzione del tetto panoramico in vetro quindi qua lasciamo l'imperiale del tetto chiaro e andiamo invece ad intervenire su le opzioni disponibili per i rivestimenti della plancia in questa zona attorno al cambio che se vi ricordate nella Evoque primo modello aveva un rotore molto scenografico se volete ma meno pratico da usare rispetto a questa leva quindi qua oltre a finiture in alluminio ci sono anche due opzioni per il legno questo forse è un po' troppo scuro per i miei gusti quindi per 100 euro che nel computo totale della macchina non sono molto e scelgo questa opzione di legno scuro i volanti sono disponibili con diversi rivestimenti ma sostanzialmente non ci sono opzioni che fanno differenza mentre ecco qui già su questa versione il touchscreen vedete è compreso nel prezzo da 10 pollici si può aggiungere una plancia di comando ancora più sofisticata touch per quanto riguarda la climatizzazione per 500 euro però preferisco spendere invece 700 euro per la strumentazione completamente digitale davanti al guidatore che dà il look che ci si aspetta da tecnologico e moderno che è tipico dell'EVOC come impostazione degli interni quindi è un'auto in cui il design è ricercato non solo per quanto riguarda la carrozzeria tra l'impianto audio più ricco da oltre 2000 euro e quello base direi di stare nel mezzo con l'iFi Meridian da 900 euro e passiamo invece a dotazioni di sicurezza attiva di assistenza alla guida di ADAS allora purtroppo vedete qua a destra ci vogliono quasi 3000 euro per avere una dotazione allineata con un modello di questa categoria non è vedete previsto anche qua a sinistra così come a destra un accessorio molto importante come il sensore di angolo cieco laterale oppure viste anche la conformazione della carrozzeria sono fondamentali gli assistenti al parcheggio quindi in questo caso telecamera e sensori e diciamo che è quasi d'obbligo aggiungere a questo pacchetto di aiuti di quasi 3000 euro anche in questo nella politica degli accessori si vede come stiamo parlando di un'auto premium sul parabrezza riscaldato magari qualcuno di voi ha avuto esperienza sulla carta è una bella idea però bisogna diciamo avere un compromesso di visibilità soprattutto in giornate con nuvolose grigie perché ci sono dei microfilamenti di resistenza elettriche nel vetro che danno fastidio quindi lascerei perdere mentre aggiungo gli ugelli lavavettri riscaldati anche se avete visto mi ha aggiunto diciamo contemporaneamente anche il parabrezza quindi lasciamo perdere mentre sempre parlando di parabrezza aggiungiamo una schermatura ulteriore per i raggi solari per il calore estivo così come la ruota di scorta che per me non deve mai mancare e passiamo invece a una personalizzazione degli interni che sempre parlando di design dell'abitacolo per meno di 300 euro mettiamo una illuminazione ambiente configurabile e poi ci sono vari accessori pratici per aumentare la versatilità del bagagliaio come ad esempio le reti di ancoraggio, scusate i ganci per usare appunto reti di ancoraggio per organizzare il carico tappetini 100 euro ovviamente vanno aggiunti ci sono vari kit estetici sensori di qualità dell'aria meno di 90 euro lo mettiamo così come una bocchetta dedicata alla zona posteriore anche qui che su un'auto di questo livello dovrebbe essere di serie ma ormai sapete che comunque la politica di non solo Land Rover ma di marchi premium è un po' allineata nel comprendere di accessori a richiesta anche molto utili che andrebbero invece inclusi nella dotazione di serie vedete qua un'altra caratteristica Land Rover è il sistema che dà un'idea dell'altezza del guado nel caso utilizzaste veramente le VOC in fuoristrada diciamo che non viene naturale per la caratterizzazione estetica ma comunque è sempre una Land Rover è stata progettata anche per abbandonare l'asfalto fino a un certo livello di difficoltà non se la cava male e poi vanno anche aggiunti dei sistemi antifurto considerando di tracciamento la macchina di cui stiamo parlando Kille Sentry si va messo su un'auto del genere Land Rover ha da qualche anno anche aggiunto un braccialetto smart se volete per poter ad esempio andare a fare sport o nuotare e bagnare questa chiave al polso lasciando invece la chiave dell'auto disattivata all'interno dell'abitacolo in un altro luogo però insomma è un qualcosa in più che dipende dal vostro stile di vita così come il portellone elettrico è sempre comodo il poter avere magari l'apertura col pedale però in generale non mi fa impazzire l'apertura elettrica che è un po' lenta qua dove sto passando il mouse vedete l'accessorio di cui vi parlavo all'inizio che è la telecamera che sostituisce volendo lo specchietto retrovisore quando avete oggetti ingombranti in realtà durante le nostre prove probabilmente l'avete visto non è ancora così efficace per quanto riguarda la profondità di campo e l'abitudine cavo di ricarica domestica parliamo di una plug-in lo aggiungiamo e poi ci sono per chi invece ha necessità di traino vedete i ganci così come un comodo accessorio un assistente da guida anche qui che dà una mano in fase di manovra e poi c'è una lunga lista di accessori che tiene fede al nome dell'endrover sia di personalizzazione ma anche di praticità per un'auto che è associata all'utilizzo nel tempo libero vedete paraspruzzi, teli, protezioni per la carrozzeria o il bagagliaio oppure accessori per aumentare la praticità di utilizzo interno come ad esempio questo gancio molto comodo sotto il poggiatesta da poter abbinare a diversi accessori per i passeggeri posteriori si è pensato anche a accessori per i cani come vedete qua ciotole oppure doccette e rivestimenti per le pareti del bagagliaio varie borse refrigerate seggiolini per i bimbi dedicati la rete ferma cani che abbiamo aggiunto prima i ganci quindi la mettiamo oppure un divisorio più rigido vedete così come un tappetino in gomma anche che diventa anche un'estensione quando abbattete i sedili così come per meno di 100 euro questa borsa organizer insomma per non far muovere gli oggetti in movimento sono tutte piccole attenzioni che comunque sono utili vedete anche qui altri organizer vari sia per l'abitacolo che nel bagagliaio andiamo verso la fine di questa configurazione con ulteriori idee per chi veramente utilizza SUV per fare sport o comunque caricare oggetti ingombranti anche sul tetto oppure personalizzare il proprio garage con soluzioni salva spazio come queste carrucole di sollevamento della bagagliera e così via vedete c'è un po' di tutto effettivamente è molto completo questo catalogo di dispositivi che spesso sono aggiunti aftermarket dai clienti ma insomma Land Rover ha pensato anche a questo e vedete partendo da meno di 60.000 euro andiamo a superare i 70.000 ovviamente sono sempre prezzi per considerarsi sconti promozioni escluse ma ecco questo è quello che fa parte spesso della politica dei marchi premium di offrire auto ad un prezzo più accessibile che poi se vengono configurate in maniera personalizzata fanno levitare molto in fretta il prezzo finale come termine di paragone rispetto a questa ibrida benzina plug-in ho fatto anche una configurazione simile in termini di accessori a parità di allestimento della motorizzazione 2000 turbodiesel 180 cavalli plug-in hybrid vedete qua a differenza della scusate 2000 turbodiesel 180 cavalli mild hybrid e vedete stavo dicendo a differenza della plug-in hybrid i cerchi sono riuscito a configurarli con questa finitura satinata e vedete che il prezzo diciamo ballano 5 o 6 mila euro in meno facendo facendo questa scelta e dopo esserci fatti un'idea di come è articolata la gamma della Evoque per poter scegliere è sempre utile andare ad analizzare le concorrenti più simili a partire dalla Volvo XC40 proprio nella versione plug-in hybrid che ha delle analogie con la Range Rover a partire dalla cilindrata del motore così come un modello che è un po' più piccolo ma comunque paragonabile come prezzo e di nuovo come architettura cioè la Mini Countryman plug-in che come la Range Rover grazie alla presenza del motore elettrico rende disponibile la trazione integrale sono curioso di sapere cosa ne pensate dell'Evoque visto che come abbiamo detto è un modello molto diffuso e noi ci vediamo al prossimo episodio del come configurarla e noi ci vediamo Grazie a tutti